I carabinieri della stazione di Iesi hanno arrestato una cittadina cinese nelle vicinanze di Monzano, titolare di un laboratorio artigianale per la produzione di indumenti e maglieria, dove lavoravano altri 7 cittadini cinesi privi del permesso di soggiorno, uno dei quali tuttora in stato di fermo per non aver ottemperato al decreto di espulsione, impostogli nei giorni scorsi. I clandestini lavoravano tutti i giorni della settimana per molte ore al giorno, per un compenso di circa 600 euro al mese. Alle finestre erano stati apposti dei pesanti teli per tenere lontani occhi indiscreti e non far trapelare la luce all'esterno durante la notte. A finire in manette anche la locataria dello stabile, sede del laboratorio e dell'antico appartamento, dove nei muri erano state ricavate delle intercapedini per sfuggire a controlli improvvisi. Grazie. 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 Grazie.